Dopo un percorso ad ostacoli trascinato dal 2014 ad oggi, il Museo archeologico Oliveriano di Pesaro scruta finalmente un cronoprogramma di riapertura per i primi mesi del 2022. E' questa la tempistica fissata dal Comune di Pesaro anche grazie all'ultimo decisivo passaggio nel recente Consiglio Comunale. Il restyling si completerà nell'anno nuovo, ma a Palazzo Almerici i lavori sono quotidianamente in corso con un riassetto già in via d'ultimazione per quelle che riguarda il nucleo dedicato alla Pesaro romana che ci viene anticipato da Brunella Paolini. Ci troviamo infatti nella sala romana del Museo archeologico che è la sala nella quale sono stati svolti i recenti lavori ad opera del Comune di Pesaro con la ditta Start di Roma e con la responsabilità scientifica della dottoressa Chiara Del Pino e ovviamente sempre in accordo con la soprintendenza archeologica delle Marche. Sì, quella che vediamo oggi è un piccolo anticipo, un'anteprima di quello che sarà poi in effetti il Museo archeologico liveriano che verrà messo in sua mano nei tempi che poi verranno definiti a disposizione di tutti, dei cittadini, dei turisti, di tutti coloro che vorranno visitarli. Ci troviamo in questo angolo che è riservato a delle memorie che raccontano della vita pubblica e della vita privata pesarese. In questo lato abbiamo il ricordo di alcuni monumenti che a Pesaro non esistono più e soprattutto il ricordo di alcuni benefattori della città di Pesaro. Tra gli altri ricordo Gaio Tizio Valentino che donò alla città di Pesaro con un lascito testamentario addirittura mille sesterzi, molti dei quali destinati alla organizzazione di giochi gladiatori nell'anfiteatro pesarese. Da quest'altra parte invece possiamo vedere alcune testimonianze delle decorazioni che abbellivano le domus, le antiche domus anche queste scoperte nella città di Pesaro e potete vedere infatti alcuni mosaici e un brano, un piccolo frammento di un affresco. Più lunghi i tempi di allestimento dell'area dedicata alla necropoli di Novilara ma gli ultimi fondi derivati dalla variazione di bilancio in Consiglio Comunale consentiranno la restituzione alla città di un museo che si presenterà in versione ampliata e rinnovata. Siamo riusciti anche grazie all'ultima variazione di bilancio votata dal Consiglio Comunale a mettere gli ultimi 100 mila euro diciamo che andando ad aggiungersi a 70 che avevamo accantonato quest'anno permettono di completare l'ultimo stralcio cioè l'affidamento della progettazione dei lavori dell'allestimento perché la parte edile e impiantistica invece è già a posto della sala diciamo di Novilara quindi la parte preistorica della necropoli di Novilara. Questo lavoro appunto ci permette oltre questo anche di ampliare di fatto il museo perché il museo così come tutta la struttura in realtà non aveva bagni pubblici non aveva accessi di desk o di armadietti per le scolaresche e vi dicendo quindi per questo oltre al museo nella pianta che conoscevamo insomma quello che si sviluppa a destra entrando a Palazzo Almerici si amplia anche dell'ala sinistra che appunto sarà destinata all'accoglienza del pubblico, all'accoglienza delle scolaresche, ai servizi igienici per la struttura, insomma quei luoghi bookshop, quei luoghi un po' di conforto che servono a museo che non volevamo togliere in termini di metratura dalla parte invece iniziale appunto quella di Piceni di Novilara che avrà tutto il respiro dovuto in questi giorni nonostante agosto stanno andando avanti il lavoro riprenderà ancora più nel dettaglio a fine agosto per l'ultima parte dell'allestimento della parte appunto cosiddetta romana e appunto siamo fiduciosi di poter completare invece la progettazione e l'assignazione dell'ultima parte dei lavori complessivamente appunto un importo di 170 mila euro entro i primi con la realizzazione della consegna, iniziamo entro i primi mesi del 2022 per una riapertura definitiva e sicuramente innovativa e immaginiamo molto apprezzata dei pesaresi ma anche dei turisti.